Che partita! Che partita! Sono molto felice! Quindi come viste questo match? C'era dove viste questo match? Penso che abbiamo deciso. Non so se abbiamo bisogno di qualche pressione, ma abbiamo giocato oggi. Abbiamo fatto tutto ciò che abbiamo dovuto fare. Questo è il nostro, questo è quello che vogliamo giocare, quindi proviamo a giocare lo stesso a domenica. Cosa è difficile per approcciare questo match in questa arena? Per sicuramente è difficile, hanno un'atmosfera in la gym e sono una squadra molto forte, quindi è stato proprio difficile. E' stato difficile. Il primo set è stato molto difficile, ma sono molto orgoglia di noi. E ora, cosa succede a domenica? Solo i quei che guardano, vediamo!